In prima corsia per il notto di nuoto Elisa Piccoli, in corsia 2 Miriam Bortolotti, acqua ambiente. In corsia 3 Anita Bottazzo, stile libero. In 4 accreditata del miglior tempo di qualificazione Martina Robaldoni, vissauro. In corsia 5 Matilde Modolo, idros. Corsia 6 Vittoria Urbanetto, 2001 team. In 7 nuoterà per i nuotatori trentini Irene De Matte. Corsia 8 per l'acqua ambiente Elisa Piccoli. 27.62 la qualificazione della Robaldoni questa mattina, Modolo al suo fianco, classe 2003, un anno più giovane, testa tosta fra loro nelle corsie centrali, primato della Biondani 26.59, 27.65. Martina Robaldoni, vissauro. Pesaro alla vittoria. Matilde Modolo, classe 2003, va a chiudere seconda in 27.78. Vittoria Urbanetto per la terza.